Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Light201 e quest'oggi vi do il benvenuto nella mappa di Caporetto Perché siamo qui per fare l'easter egg della piastrina segreta di Battlefield 1 che segue la piastrina Visione Angelica intitolata Belly of the Beast Prima di tutto dovremo spawnarci con il kit assalto, guardate un po' ciò che ci serve Principalmente ci serve una mitragliatrice come primaria E il lanciarazzi, per il resto non ho preferenze quindi fate voi Ci generiamo e corriamo perché adesso vi porto io da qualche parte Se va benissimo sta mitragliatrice qua Questo è il luogo che interessa a noi, quindi uno dei siti delle bandiere quando andate in partita Vedete qui ci sono un sacco di statue, ce n'è una, due, tre Ecco a noi interessano queste qua, quindi gli angeli Vedete ce ne sono una qui sotto a questa struttura in legno Poi ce n'è un'altra qui, lì e là, sono quattro statue di angeli Come ricorderete bene, nella piastrina segreta Visione Angelica ci veniva dato il suggerimento di sparare Che in pratica era stata distrutta la testa di colui alla mia destra, l'ala di colui alla mia sinistra, il torso eccetera eccetera Erano tutti suggerimenti decodificati naturalmente che ci indicavano cosa spaccare di ogni angelo per ottenere la nuova piastrina Partendo da questo qui a destra Il kit flammiere è disponibile vicino alla tua posizione Grazie il kit flammiere A costui dobbiamo far saltare un pezzo di ala A posto Vedete? Ecco, è lui un pezzo di ala Poi andiamo da questo, che è il mio preferito Al quale bisogna far saltare la testa Quindi un bel headshot Ok, non deve rimanere niente, vedete? Solo un pezzettino di collo Poi andiamo da quello che si trova qui vicino alla struttura in legno Ed è... Un kit flammiere è disponibile vicino alla tua posizione Sì, ho capito, stai calma E a questo bisogna far saltare tutto tranne il piedistallo, ok? Quindi miriamo all'angelo E lo facciamo saltare in aria Vedete che il piedistallo è rimasto intatto E infine abbiamo questo tipo qua Vediamo un po' Un kit flammiere è disponibile vicino alla tua posizione Uff, sei monotona, madonna Questo bisogna far saltare il torso Quindi... Ecco qua Fatto Beh, spaventoso Comunque sì Dopo aver fatto quel passaggio lì sentirete delle urla agghiaggiandi Provenire da questo angelo qui E se vi reccherete dietro a costui ci sarà un pulsante per interagire Perfetto Una volta interagito col pulsante salta tutto in aria Sentirete i soliti suoni del mostro di fumo Quelle cose lì E avrete la piastrina Ora andiamo a vederla Ed è... Retro... Eccola qui Eccola qui Il ventre della belleva Bene Vedete questa specie di piccola miniera Unknowable Ecco Ricordatevi perché la prossima volta sarà divertente Ciò che faremo Detto ciò io spero che il video vi sia piaciuto Vi ricordo di passare dal canale Telegram Che trovate in descrizione e anche nei commenti Io sono a vostra disposizione sia lì Che sotto i commenti Mi raccomando lasciate un mi piace nel caso in cui vi sia piaciuto Non mi piace nel caso in cui vi abbia fatto Completamente cagare Però in questo caso dovreste ringraziarmi perché non sareste più stitici E io vi saluto Ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ciao Ciao